Oggi la strumentazione per i rilievi è sempre più sofisticata, cosa porta e cosa presenta Geomax al Digital BIM Italia? La novità che abbiamo portato qua alla fiera è il nostro software X-Pad Fusion che praticamente ci permette di far confluire tutte le caratteristiche delle misurazioni che possono essere da stazioni totali, da GPS e da laser scanner in un'unica piattaforma e quindi renderla più fruibile e molto più velocemente all'interno delle piattaforme BIM. Quindi Geomax vuole essere presente in quella fase ricognitiva, quindi iniziale di un progetto, durante una progettazione e magari anche a consuntivo di un progetto. Quindi questo spesso è fatto da professionalità diverse, con strumenti diversi, quindi avendo un'unica piattaforma che facilita l'ingresso di queste caratteristiche, queste misure da più parti, riusciamo oggi ad avere un unico ambiente e quindi più facilmente divulgabile anche nelle altre piattaforme per il BIM. Un software quindi versatile, anche facile e intuitivo? Questa è la nostra caratteristica, poi chiaramente i clienti dovrebbero premiarci con la scelta. Normalmente la regola è meno pulsanti abbiamo, più facile sarà utilizzarlo. Diciamo che è la caratteristica, la base della progettazione. La peculiarità invece di questo software? La semplicità in prima di tutto, ma anche la versatilità di catturare a posteriori informazioni tridimensionali ovviamente, che possano essere misurate anche con competenze diverse. Magari un topografo ha delle caratteristiche che leggono meglio il terreno in un modo, un ingegnere vuole avere l'informazione da una nuvola di punti che è data in altra forma. Quindi il fatto di avere comunque un'unica piattaforma che ha permesso al tecnico di creare un unico modello 3D può essere sicuramente una facilitazione. Questo ripeto sempre, visto dal lato anche che il dato non rimane dentro il nostro programma, va verso il mondo esterno, va verso quello che oggi chiamiamo BIM, ma va all'interno di un mondo 3D a tutto tondo. Grazie a tutti.